Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione su Telebari e Radio Bari da Barbara Cirillo. In primo piano oggi Bari ha un nuovo sindaco. Questa mattina la cerimonia di proclamazione di Antonio De Caro con il passaggio di consegne al comune. Sarò il secondo cittadino, ha detto De Caro, il primo sarete voi. Il servizio di Silvia Dipinto. Il primo cittadino sarete voi, i primi cittadini. Io sarò il secondo. Sarete i primi cittadini perché dovrete essere i primi a tenere pulita la città. Dovrete essere i primi a rispettare le regole sulla viabilità. Dovrete essere i primi a custodire la nostra città come se fosse la nostra famiglia o la nostra casa. Il sindaco siamo noi, anzi siete voi. Io sarò il secondo cittadino, voi il primo. Con lo slogan della campagna elettorale, Antonio De Caro da oggi con la fascia tricolore saluta la città di Bari. Puntuale alle 11 arriva con la navetta del parque Rai da palazzo di città, accompagnato dalla moglie Cati e dalle due bambine. Ad accoglierlo c'è il sindaco sciente Michele Emiliano. Il passaggio di consegne fra l'emozione generale e le lacrime trattenute a stento. E la promessa di Antonio De Caro, entro la settimana alla giunta farò crescere una nuova classe dirigente. Ho detto più volte che mi sono candidato anche per far crescere una nuova classe dirigente, per dare a persone che hanno magari 30 anni la stessa opportunità che tu hai dato a me dieci anni fa. A salutare Antonio De Caro alcuni colleghi arrivati dalla provincia. Il nuovo sindaco spalanca le porte della stanza che lo vedrà lavorare per i prossimi cinque anni e finalmente siede sulla gognata poltrona da primo cittadino. Chiudevo tutti i comizi della mia campagna elettorale dicendo grazie a tutti e andiamo a vincere. Oggi mi sento di dirvi grazie a tutti e andiamo a lavorare. Grazie. Antonio De Caro è arrivato in comune con la navetta del parque Rai, accompagnato dalla moglie, dalle due figlie e dai genitori. Abbiamo raccolto proprio l'emozione della moglie Katia e di papà Giovanni. Sentiamo. Qual è lo spirito di questa giornata? Io sono particolarmente soddisfatto, orgoglioso. La moglie del nuovo sindaco che emozione ha provato oggi? Una grande emozione, una emozione che non si può descrivere. Sembra proprio una, non so se è una favola. Questo comporte una grande responsabilità anche per tutta la famiglia. È un grande sacrificio, ma un sacrificio comunque voluto, un sacrificio che lo faremo, ci impegneremo tutti. Cale invece il sipario sulla provincia di Bari. Questa mattina ultimo consiglio provinciale con l'approvazione degli atti amministrativi. Un commiato non senza qualche rammarico. Nata nel 1861, l'istituzione con sede in via Spalato va ora in liquidazione, almeno per la sua parte politica, per lasciar spazio alla nuova città metropolitana che vedrà Bari capofila di 40 comuni. Dopo il disbrigo delle questioni istituzionali, la giornata prosegue alle 17.30 con il convegno dal tema dalle province alle città metropolitane e quale futuro. Dalle venti infine, porte aperte alla cultura con la notte bianca della poesia. Cosa succede dunque da domani all'ente di via Spalato? Quali competenze saranno trasferite alla nuova città metropolitana? Lo abbiamo chiesto all'ultimo presidente della provincia, Francesco Schittulli, ospite questa mattina al B&G. Le competenze quali passeranno alla città metropolitana? Le competenze sono tutte che passano alla città metropolitana, tranne la sicurezza sulla viabilità e l'edilizia scolastica. In parte l'ambiente significa che l'ambiente è una delega che si tiene per sé la regione e che dà lo scarto di questa delega alla provincia. Cioè ciò che è tutto di negativo lo dà alla provincia e ciò che è tutto di positivo, per esempio l'incasso, se lo trattiene la regione. Detto questo però, edilizia scolastica e viabilità. Io qua mi interfaccerò ovviamente con il sindaco di Bari perché ogni giorno mi arrivano, non voglio esagerare, diciamo intorno alle 10 richieste da parte dei 170 istituti scolastici di tutta la provincia di Bari che chiedono interventi urgenti presso i loro istituti, da quelli che sono le problematiche idrauliche a quelle che sono le problematiche murarie e quant'altro. Ma non abbiamo risorse, non abbiamo finanziamenti, non ci vengono dati. Anche la stessa cosa riguarderà la viabilità, quindi lo chiederò, come in campagna elettorale il sindaco De Caro ha detto, chiedilo a De Caro, li chiederò a De Caro. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. 9 arresti, 14 denunce, 5 i sequestri solo nella provincia di Bari e il bilancio dei controlli contro l'inquinamento ambientale effettuati dal Comando Legione Carabinieri Puglia in collaborazione con militari specializzati dei nuclei operativi ecologici per la tutela ambientale. 122 i controlli effettuati in tutta la Puglia, 41 i centri di raccolta e smaltimento rifiuti passati al setaccio, 18 le attività sequestrate per un valore totale di oltre un milione di euro. E ora il calcio, questa mattina al San Nicola, conferenza stampa d'addio del direttore sportivo del Bari, un guido, Angelozzi, visibilmente commosso. Sentiamo un breve stragio. L'esperienza è bella, molto bella, ci sono stati momenti brutti, però io penso che nell'arco di questi quattro anni sono più momenti belli che quelli brutti, perché quelli brutti uno cerca di risolverli e poi di dimenticarli, invece i momenti belli ce ne sono stati tanti. La cosa più bella di quest'anno di là è stata aver ritrovato l'amore fra la squadra, fra la società nuova che sta nascendo e i tifosi. C'è un rapporto morboso che non avevo visto mai in nessuna città. E devo dire, è una cosa che da spiegarla è una cosa pazzesca, perché quest'amore verso questi giocatori, questi ragazzi, è una cosa bellissima. Ho parlato a un qualche giocatore degli anni passati e mi ha detto dall'esterno, dice neanche quando abbiamo vinto il campionato con Conte, con Fascetti, con tutti quanti, quest'amore proprio verso la squadra. E questa è una cosa bella, insomma. Dobbiamo dire grazie ai ragazzi, agli allenatori, insomma, a tutte le persone che hanno lavorato in quest'annato. E la conferenza stampa integrale di Angelozzi, tra l'altro introdotta da Gianluca Paparesta, andrà in onda nel corso del bianco e rosso Tibi Sport, in onda ovviamente su Telebari alle 14.30. Oggi il primo ciac nel capoluogo pugliese dell'ultimo film di Vincenzo Marra, La prima luce, le riprese, oltre che a Bari, saranno realizzate anche a Roma e a Santiago del Cile. Genitorialità contese tra cittadini appartenenti a nazioni diverse, complesse realtà familiari e vuoti legislativi a livello internazionale. È la storia della disgregazione di una famiglia che alla fine però ritroverà la serenità tanto sospirata. Protagonisti Riccardo Scamarcio e l'attrice cilena Daniela Ramirez, Prodotto dalla Paco Cinematografica con il sostegno del MIBACT, il film è sostenuto da Puglia Film Commission con un finanziamento di 186.000 euro, la cui ricaduta sul territorio è pali a 671.000 euro. Passiamo alle previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, le temperature saranno comprese tra i 29 e i 22 gradi, venti moderati e mare poco mosso. In chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato infochiocciolelsegnodizorro.it Inoltre vi ricordo che vi lasciamo al servizio dedicato alla quarta edizione di Masserie Sotto le Stelle. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Ancora un grande successo per la quarta edizione di Masserie Sotto le Stelle, la festa delle masserie didattiche pugliesi organizzata dall'area politica per lo sviluppo rurale della regione Puglia in collaborazione con l'area politica per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti. Una grande partecipazione di pubblico, tantissimi visitatori pugliesi ma anche stranieri che hanno partecipato alla lunga notte delle masserie del 21 giugno. Degustazioni per i più grandi, laboratori didattici per i più piccoli per fare scoprire loro i segreti e le sorprese della natura. E poi un sostizio d'estate trascorso nelle strutture aderenti, traccanti e balli della tradizione. L'obiettivo? Sostenere il mercato agroalimentare e zootecnico con la promozione su larga scala dei prodotti a Marchio Puglia. Ma sentiamo le parole dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari Fabrizio Nardoni e della responsabile educazione alimentare Masserie Didattiche, Angeli Kanglani. È diventato un appuntamento che in qualche maniera ci permette di mettere a disposizione della nostra regione queste realtà che esprimono veramente un momento importante per il mondo della ruralità pugliese. Noi ci siamo divertiti a definirle le scuole a cielo aperto perché nelle nostre Masserie Didattiche si dà la possibilità ai bambini, ai giovani ma anche agli adulti di conoscere il mondo della ruralità facendo anche percorsi formativi. Questa è diventata ormai un appuntamento annuale per aprire l'estate con questa manifestazione Masserie Didattiche sotto le stelle ma è un po' l'apoteosi della vita che si svolge, delle attività, dei laboratori che si svolgono durante l'anno quindi poi c'è un momento clou che cade all'inizio dell'estate tra l'altro quest'anno proprio il giorno del solstizio d'estate proprio per festeggiare l'attività didattica nelle Masserie.